Sto declinando una lettura di questa malietta Un gruppo che volevano vivere la gioia Quindi l'hai adottata Ma l'ho messo oggi per caro sapendo che volevo vivere Ti piaciuto? E come? Perché? Perché, come ti dicevo, i bambini è il segno della vita Giocare vuol dire la pace, c'è l'armonia Si gioca solo quando c'è armonia, ci solidarietà, ci gioia Che cosa non si fa per i bambini? E questo per i bambini devono essere non vittime di una realtà Come quella che facciamo noi oggi Un po' di guerra, di battaglia Ma con la pace Buongiorno a tutti, io sono Antonio Moutillo Io sono animatore di Platto Champ E noi siamo a qualche giorno di Noè E noi siamo il 25 novembre E noi siamo il 25 novembre E in un anno Il y aura questa festa E io penso a voi E io penso a voi E io penso a voi tutti E�a, quando siamo rappresentato E noi siamo lavorati E E中 a trovato un po' di peintura qui traggono, un po' di guitares che aspettano di essere giocati ho trovato una, c'è questa c'è un po' di messaggio è inscrita a coloro di Noè, quindi in rouge la coloro di l'amore, la coloro della passion è scritto 5x5 uguale Noè in sotto c'è un'inscrita è scritto come una signatura qui tu sai questo messaggio è stato lasciato una figlia che è anche una bella mamma che ci ha lasciato questo messaggio per che noi passiamo Noè tutti insieme, che sia Noè che sia Noè un po' tutta l'anno che sta sentire su una chansra a vivere a vivere adesso una chansra che non è a vivere demain che è più a vivere per a vivere per la mia che è bene e bene a vivere per l'ora presente. Io sono davanti questa porta di coloro or, questa porta che vi fa la vicenda, una vicenda che vi fa la vicenda di coloro or, perché vi fa la vicenda di coloro or, un po' a la vicenda di coloro or, che vi fa la vicenda di coloro or, come parla in la città della città, per trovare le differenze declinazioni a traverso i supporti media, che avete accettato via internet. D'ailleurs, ci abbiamo trovato interessante di mettere in avanti la signatura di questo messaggio, e di partire da questa signatura, quindi utilizzare questa come punto di part per guidare, per guidare in questo viaggio di vita, in questo viaggio di vita, in questo viaggio di culturello, in questo viaggio di attraverso dei supporti media. questo support, il supporto di partire, c'est internet, internet, quindi a l'adresse www.quietu.ca in Italia. www.quietu.ca 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 In our dream reality We can do what you want All I want is to stay with you All my life All my life All my life We can do what you want All I want is to stay with you All my life 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 In our dream We are reality We can do what you want All I want is to stay with you All my life All my life All my life All my life Amen.